Nel 2013 gli organizzatori del Girls in ICT Day hanno trovato modi innovativi per promuovere le eccitanti possibilità di lavoro che offre il settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. In tutto il mondo vari eventi hanno ispirato giovani donne ad intraprendere una carriera nel settore. Alcune attività hanno coinvolto dalle 20 alle 500 ragazze. In totale sono stati organizzati più di 1.500 eventi in 120 nazioni raggiungendo circa 40.000 giovani donne a livello mondiale. Cerchiamo dunque di ispirare ancora più giovani donne nel 2014. Il segretario generale della International Telecommunication Union, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di tecnologia dell'informazione, invita tutti a organizzare eventi per celebrare Girls in ICT Day il 24 aprile 2014 o se non potete prima o dopo il 24. Alcuni di voi magari vogliono organizzare eventi a livello nazionale, altri a livello regionale, mentre per alcuni può essere il primo Girls in ICT Day. L'obiettivo è di invitare ragazze, adolescenti e studentesse universitarie a divertenti e informative giornate a porte aperte in compagnie che si occupano di informazione tecnologica, università, centri governativi. È un'opportunità per capire cosa offre un lavoro nel settore facendo domande e incontrando donne modello. Visitate dunque il portale www.girlsinict.org per ottenere maggiori informazioni sul Girls in ICT Day. E non dimenticatevi di farci sapere quale attività avete organizzato per promuovere il vostro Girls in ICT Day. E seguite anche la campagna comunicativa di Tech Needs Girls. Grazie a tutti!